Conferenza stampa congiunta alla Pistoleggia alla quale hanno preso parte il Presidente Razio Ferrari che ha annunciato di far praticare per il match contro il Pisa un prezzo speciale di ingresso in Tribuna Nord. Gravissimo mi sembra un po' esagerata, è una situazione un po' delicata, sicuramente potevamo tirar fuori, levarci le gambe dalla partita di Savora, purtroppo non è nata così, però sono molto fiducioso, sono sicuro che i ragazzi abbiano capito la lezione, sono sicuro che il Minister darà la carica giusta, quindi penso che sono molto fiducioso di avere il massimo risultato domenica. Per questo abbiamo pensato di ridurre il pezzo del biglietto di Curva Nord a un euro, più ovviamente c'è il diritto di prevendita che tra l'altro siamo riusciti a diminuire da un euro e cinquanta a un euro, quindi in sostanza i due euro invito tutti gli abbonati a mantenere l'abbonamento perché faremo in modo nella prossima stagione di far recuperare appunto questo vantaggio che in qualche maniera è stato dato a chi non ha l'abbonamento. Il capitano di Arancioni, Corrado Colombo, ha invece parlato del Pisa, della salvezza e delle difficoltà di questo match che dovrà essere affrontato con uno stato d'animo adeguato. Siamo arrivati all'ultima, abbiamo solo un risultato, quindi tutto dipenderà da noi, dal nostro atteggiamento e dalla dimostrazione di voglia che avremo noi di vincere. Indietro non si può tornare, non possiamo cancellare l'errore che abbiamo fatto, bisogna guardare avanti e avanti abbiamo solo la partita col Pisa di domenica. Siete consapevoli che loro verranno qua per fare il risultato e che non vi regaleranno assolutamente niente? Chi è venuto qua non ci ha mai regalato nulla, quindi noi sappiamo, partiamo già da questo presupposto, quindi starà a noi. Da capitano e da Pistoese, un appello alla città? Penso che non ci sia bisogno di fare un appello alla città, la società ha fatto questa iniziativa di mettere la curva a un euro, quindi sono sicuro e certo che chi ci tiene alla Pistoese, i tifosi, verranno a darci sicuramente una mano. Il tecnico Bertotto ha invece analizzato la prestazione di Savona, affrontando poi il tema caldo dell'ultima partita di campionato contro il Nera Giurri di Rino Gattuso. Siamo nella stessa condizione del mio arrivo, a un punto sopra la zona play-out, con tre settimane di lavoro positivissime, con una mentalità dei ragazzi assolutamente radicata, con delle idee assimilate in pochissimo tempo e questo è un grande punto di vantaggio. Bisogna adesso riprendere il cammino interrotto, ma sotto l'aspetto delle motivazioni, della qualità dei ragazzi e dell'impostazione che loro mettono quotidianamente io non posso fargli nessun rimprovero.